Questa volta a fare boom è la notizia. Una bomba inglese della seconda guerra mondiale da rimuovere in contrappallamaio a Vicenza. L'ordigno pesa 500 libre e ovviamente va maneggiato con prudenza. Vicenza però ha già un'esperienza simile, il Bomba Day del 2014 al Parco della Pace. Si riparte da lì, ci si avarrà di quel know-how, anche se questa volta il raggio di evacuazione sarà probabilmente più limitato, basteranno 450 metri, ma sicuramente più complicato dal fatto che l'epicentro del ritrovamento è il cuore della città. Oggi nel primo summit in videocall tra comune e prefettura è stata ipotizzata l'evacuazione di 3.076 residenti, pare a 1.608 famiglie. Non è poco. Fortunatamente rispetto al Bomba Day del 2014 le persone di evacuare sono molto molto meno, sono la parte più preoccupante e naturalmente che ci troviamo all'interno del centro storico, quindi ci sono oltre le persone anche un patrimonio architettonico da tutelare, infatti è stata coinvolta la soprintendenza e lavoreremo poi anche per fare dei punti diciamo così di accoglienza per le persone che non avranno altri posti dove andare a passare qualche ora durante la domenica, credo che questo sarà un giorno del mese di aprile che utilizzeremo per l'evacuazione e quindi a chiusura di negozi e di attività. Ci sarà da organizzare l'evacuazione della casa di cura eretegna e da monitorare la sicurezza dei tanti palazzi di pregio e dei molti monumenti che si trovano nel raggio di evacuazione. Senza contare il coinvolgimento della rete ferroviaria e delle stazioni dei treni e delle corriere. Il tutto, per di più, dovrà inoltre essere organizzato nel rispetto delle normative anti-covid. Il giorno non è ancora stato individuato ma il Bomba Day durerà dalle 6 alle 8 ore e dovrebbe tenersi in un festivo tra la fine di aprile e i primi di maggio. Una giornata che partirà sicuramente dalle 7 della mattina fino alla sera al tardo pomeriggio e poi si svilupperà nell'arco della giornata con la rimozione e l'accompagnamento a 20 chilometri nell'area di Alonte per far brillare l'ordigno.